Buonasera, buonasera da Honda TG, in apertura subito la cronaca, 25 pistole rubate nella notte, detenzione di sostanze stupefacenti, blitz di polizia e carabinieri a cantone per quella che a tutti gli effetti si può definire una maxi operazione che si è chiusa al momento con un arresto e due denunce, ma sentiamo tutti i particolari nel nostro servizio. Le operazioni per il ritrovamento di 25 pistole rubate nella notte a un collezionista sul Monese sono ancora in corso, ma nelle perquisizioni di questa mattina che hanno visto l'intervento congiunto di polizia e carabinieri sono state rinvenute alcune dose di sostanze stupefacenti che hanno portato i militari dell'arma nel pomeriggio di oggi ad arrestare una persona e denunciarne altre due. Nel penitenziario Peligno è stato ristretto GB, 44 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. All'interno dell'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno rinvenuto alcuni vasi di canapa indiana, ma anche una piantagione di marijuana. Per lui è scattato l'arresto in attesa dell'udienza di convalida. Sempre con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria GG, domiciliato a Pettorano Sul Gizio, ed MB, che colleziona due denunce in due giorni. Ieri era stato deferito dai forestali per lesioni colpose aggravate e violazione degli obblighi di custodia in merito alla vicenda che ha visto protagonista un noto veterinario del posto, aggredito e morso, la Treccani. La maxi-operazione dei carabinieri coordinati dal Maggiore Florindo Basilico sulla detenzione di sostanze stupefacenti sostanzialmente si è chiusa, mentre vanno avanti senza sosta le indagini della Polizia che si sta occupando delle armi rubate. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo. Dalla cronaca subito alla politica, bufera in casa del PD a Sulmona perché si è dimesso il presidente del circolo Sandro De Panfilis ha consegnato una lunga lettera di dimissioni al segretario Sergio Dante. Sentiamo nel nostro servizio. Un circolo PD condannato alla sua assoluta rilevanza politica nell'immediato e alla lunga alla sua definitiva scomparsa. La decisione era nell'aria ma oggi Sandro De Panfilis ha voluto mettere tutto nero su bianco. In verità la lettera inviata alla stampa riporta la data del 24 aprile, il giorno dell'ultimo direttivo De Dem. De Panfilis si dimette da presidente del circolo del PD. Parla di incompatibilità per onestà intellettuale e consegnere dimissioni nelle mani del segretario del circolo Sergio Dante. Sono convinto che il Partito Democratico in questa congiuntura storica spiega che sconfitte elettorali che sembrano non arrestarsi più debba dare ai propri iscritti eventuali simpatizzanti segnali di chiara inversione di tendenza. E conseguentemente fare scelte connotate da estrema chiarezza di intenti e conseguenti comportamenti di collocazione nello schieramento politico a tutti i livelli. Pertanto la questione che si è posta del salvataggio dell'attuale amministrazione comunale in maniera quantomeno irrituale da parte di un consigliere del PD senza confronto col partito né tampoco all'interno del gruppo consigliare appare dirimente. Il prezzo che pagheremo in termini di credibilità politica da questo accordo scellerato con chi muova le fila di questa amministrazione fino a ieri da noi indicato come maggior responsabile delle spogliazioni subire da questo territorio valga per tutto l'esempio dell'ospedale sarà altissimo. Ringraziando, con gruio De Panfilis, beninteso i membri del direttivo per la fiducia a suo tempo accordata, mi auguro le migliori fortune. Tribunale città meritano rispetto, Sulmona non va in regione, arriva la ravanzina proprio del PD al sindaco assente ieri, il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Allora facciamo il punto nel nostro servizio. Che abbia deciso di non partecipare per ragioni personali o perché la questione attribuisce solo un carattere tecnico e non politico, anche solo per una questione di rispetto, la città di Sulmona doveva essere rappresentata. E il Partito Democratico a condannare il gesto del sindaco Anna Maria Casini, che ieri non si è presentata a Regione per la commissione salva tribunali, dicendo no ad accordi dal basso ma ponendo la questione sotto un piano tecnico. Il sindaco ha reso note le motivazioni della sua scelta, che non sono piaciute ai dem sulmonesi. Anche la città di Avezzano ha iniziato a conoscere la sindaca di Sulmona, Anna Maria Casini, che ieri non ha preso parte all'udienza che si è svolta all'Aquila, presso la Regione Abruzzo, per illustrare tutte le azioni intraprese per la salvaguardia e le tribunali di Avezzano e Sulmona, affermano dal circolo PD Sulmona. Per i dem è una questione di rispetto. Rispetto non solo nei confronti delle altre istituzioni sedute a quel tavolo, riprendono, ma soprattutto di quanti tra i cittadini di Sulmona si oppongono da anni alla chiusura del tribunale cittadino. Probabilmente la Cassini avrà avuto le sue ragioni per non partecipare. Ma è possibile che tra tutti i componenti della Giunta, quelli rimasti ovviamente, e tra tutti i consiglieri di maggioranza, quella che non ha problemi di numeri, secondo il consigliere Fabio Pingue, nessuno sia stato informato di questa riunione e nessuno abbia ritenuto opportuno dover partecipare o suggerire alla sindaca di mandare un rappresentante della città? O la questione del tribunale di Sulmona appare alla Cassini un problema meno importante rispetto alla tenuta della sua maggioranza? Si chiedono dal circolo PD, che riapre la polemica sollevata ieri anche dall'assessore del comune di Avezzano. Arredo urbano in centro storico. Il comune di Sulmona cerca 15 operatori economici. Finalmente dunque si mette mano anche al decoro del salotto della città. Ma sentiamo tutto nel nostro servizio. Il comune di Sulmona avvia un'indagine di mercato per reperire 15 operatori economici interessati alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione del centro storico per un importo complessivo di 300.000 euro, di cui 206.988,85 per lavori a basse d'asta, inclusi 4.931,03 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. La determina dirigenziale sarà pubblicata sull'albopretorio del sito istituzionale del comune di Sulmona. Si mette mano finalmente all'arredo urbano con un pacchetto di interventi che Palazzo San Francesco si trascina dall'amministrazione Ranalli. Per riqualificazione del centro storico in questo caso si intende dare avvio a una serie di lavori su piazza 20 Settembre, piazza del Carmine, alcuni arredi tra panchini e fioriere, oltre alla sistemazione della pavimentazione. La nostra attenzione ovviamente non si concentra solo in centro storico, manca ad altre zone della città che hanno bisogno di maggiori allestimenti e interventi per il decoro, fa sapere la consigliera comunale Roberta Salvati che si è interessata del caso. Gli operatori economici individuati andranno a raggiungersi a quelli già reperiti attraverso la consultazione dell'albosaca. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interessi superiori a 15, il numero dei candidati sarà comunque limitato a tale numero, procedendo a sorteggiare in seduta pubblica i nominativi degli operatori economici in eccedenza che non prenderanno parte alla successiva fase della procedura. Piccoli accorgimenti per l'arredo urbano che è sul Muna però servono a giudicare dalle continue sollecitazioni degli esercenti. E ora la viabilità dopo le polemiche del 25 aprile con le strade da riaprire, la provincia dell'Aquila detta i tempi, domani tocca la 479 Sannite. Sentiamo. La provincia dell'Aquila detta i tempi per la riapertura delle strade chiuse con l'ordinanza del 25 aprile in attesa della messa in sicurezza. La prima a tornare nella fruibilità degli automobilisti sarà la 479 Sannite. Per la giornata di oggi sarà annunciata la conclusione dei lavori e per domani la riapertura. Il nostro primo dovere, interviene il presidente Caruso, è quello di garantire l'incolumità degli utenti delle arterie provinciali che saranno riaperte nei prossimi giorni. Con la predisposizione di tutta la cartellonistica di salvaguardia, con raccomandazioni e prescrizioni, ma valuteremo tutte le circostanze e condizioni per ogni singolo tratto stradale. Abbiamo lavorato con le ristabilite commissioni tutti i giorni per dotarci del bilancio che nessuna provincia in Abruzzo ha approvato, che ci permetterà di realizzare i lavori necessari sulle carrabili. Abbiamo chiesto il passaggio e stabilizzato 188 km di strade. Abbiamo destinato la viabilità a 18 milioni di euro e a meno di un'ora dall'approvazione del bilancio siamo intervenuti sulla strada 479 Sannite. Il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha voluto anche chiarire il funzionamento di un ente che fino a qualche mese fa, con la legge 56 del 2014 del Rio, era stato praticamente deopaperato di ogni tipo di stanziamento e soprattutto di efficacia e operatività, ma investito nel contempo di competenze e funzioni come l'edilizia scolastica e la viabilità che rappresentano per le popolazioni delle aree interne i presidi vitali da custodire appena il dissolvimento delle comunità. L'impegno e lavoro quotidiano del presidente consiglieri è massimo anche a fronte di alcuna indennità percepita. In conclusione si precisa che i lavori sulla strada 479 e le altre arterie non saranno realizzati per le polemiche dell'ultima ora, ma bensì per aver approvato in tempi da record il bilancio due giorni fa, opere altrimenti impossibili da programmare, conclude Caruso. E ora torniamo a Sulmona per parlare di viabilità con via del Cavallaro, una serie di buche, una serie di slalom e la strada di nuovo a rischio. Vediamo nel nostro servizio. Uno slalom che torna a far paura ai residenti, via del Cavallaro di nuovo a rischio cedimento. Cinque grandi buche che si sono formate in questi giorni, che riaccendono i riflettori su un'arteria stradale che più volte è rimbalzata agli onori della cronaca. Per i lavori recentemente era stata trovata la quadra con una sinergia fra tutti gli enti interessati. A disposizione ci sono 120.000 euro per via del Cavallaro. Nella parte sottostante via del Cavallaro, aveva già spiegato l'assessore comunale Nicola Angelucci, c'è un canale riguo. Da tempo anche il sistema fognario ha delle criticità in quell'area, per questo la situazione è degenerata con continui smottamenti. Qualche mese fa lungo la strada è stato svolto un intervento massiccio per arginare la situazione in attesa dei lavori definitivi. Si dovranno contenere le acque del canale riguo e intervenire sulle fognature, aveva sempre detto Angelucci. I residenti però non abbassano la guardia come del resto gli automobilisti. Dopo l'ennesimo episodio è infatti scattata la psicosi. E ora ci spostiamo a Prato-La Peligna. Ok alla modifica del PRG sarà trasferita la scuola di piazza. Indipendenza. Via libera dal Consiglio Comunale di Prato-La Peligna. La proposta di approvazione del PRG per il trasferimento della scuola dell'infanzia di via indipendenza in un edificio privato a contrada a Codacchio. Con il voto della maggioranza e l'astenzione dei gruppi di opposizione, la proposta, già recepita in un'apposita delibera della Giunta Comunale, guidata dal sindaco Antonella Di Nino, passa e mette dunque in movimento l'iter per il trasferimento dei bambini della scuola dell'infanzia a partire dal prossimo anno scolastico. Lamentiamo continuamente la ristrettezza degli spazi per i bambini nello stabile di via indipendenza, sostiene il sindaco nel suo intervento in aula e pertanto riteniamo che questa soluzione sia la migliore per rispondere concretamente alla domanda di spazi nuovi e sicuri. Ma il primo cittadino nel corso della seduta consigliare ha dato anche comunicazione dell'ufficialità della gradatoria legata ai finanziamenti previsti nell'ultima legge di stabilità e richiesti per 4,2 milioni di euro dall'amministrazione. Le sei richieste del Comune di Prato la sono classificate dal 3.411 al 3.416 sul totale delle 5.904 presentate dai comuni, conclude il sindaco. E sembra paradossale, ma non lo è. Sono state ammesse a finanziamento 146 richieste inoltrate da comuni che presentano un disavanzo di bilancio, un dato francamente discutibile. Nel corso della seduta il Consiglio Comunale ha approvato anche il rendiconto. Smaltimento di rifiuti al palo SOS di Pratola Insieme che sul punto non abbassa la guardia. Va rilento lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in quel di Pratola Peligna, una situazione che preoccupa e non poco il gruppo consigliare di minoranza Pratola Insieme che parla di un vero e proprio stallo del servizio e lancia l'allarme. Il Comune di Pratola Peligna il 29 luglio scorso ha deciso di uscire formalmente dalla centrale unica di committenza del Comune di Sulmona perché, si legge in una nota del gruppo, comebbe ad affermare il sindaco Antonella Di Nino, dall'inizio si era reso necessario rivedere la convenzione a causa dei ritardi delle procedure a scapito della celerità. Ad oggi, ad essere in paradossale ritardo è proprio il Comune di Pratola Peligna, continua Pratola Insieme, a discapito di tutti i suoi cittadini che per un capriccio politico del sindaco che ha amputato i procedimenti già avviati dalla CUC sulmonese, lasciandoli irresponsabilmente in sospeso, si ritrova a non avere un servizio ottimizzato e indispensabile, quale lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da qui la denuncia del gruppo di opposizione che non abbassa la guardia. Cambiamo argomento, fra suoni, inni e colori, partita la marcia dei 500 nel nome della libertà. Stiamo parlando del sentiero della libertà, 18esima edizione, vediamo tutto nel nostro servizio. Buon cammino! Voglio dire di tenere presente il sacrificio che è stato fatto da noi per la libertà. Senza la libertà l'uomo non può vivere. L'uomo vive in una situazione quasi animaresca. Con la libertà si ottiene tutto. L'appello per i 500 marciatori del sentiero della libertà, partito questa mattina dal palazzetto dello sport di Sulmona, arriva ai nostri microfoni dal patriota abruzzese Gilberto Malvestuto che con i suoi 97 anni e la sua carrozzina non è voluto mancare al taglio del nastro in piazza 20 Settembre. Una carovana piena di suoni di colori, quella del freedom aperta dai carabinieri a cavallo e dalla banda, oltre allo striscione della diciottesima edizione che segna l'anno della maturità per la marcia, campeggia anche la bandiera della pace e non si tratta di una casualità evidentemente. Studenti sempre più protagonisti perché da sempre i ragazzi sono i nostri veri autori del freedom trail. Quest'anno prenderanno più spesso la parola, interverranno nei momenti diversi del cammino per raccontarci la storia ma anche per farci riflettere con loro sul senso del cammino. Così è intervenuta la giornalista Maria Rosaria Lamorgia, presidente dell'Associazione Sentiero della Libertà che ha tagliato il nastro assieme a Lea Cicerone e Gilberto Malvestuto. Sulla necessità di avere più studenti sul Monesi, unica nota stonata della marcia, Lamorgia ha ricordato che feed on trail è di tutti, non c'è bisogno di dare una collocazione. Marciatori infatti sono arrivati da Ancona, Cuneo, Casoli e Lanciano. All'inaugurazione erano presenti l'assessore comunale Antonio Angelone e sindaco di Campodigiove Stefano Di Mascio. Da dove venite? Ancona. Ancona, allora siete pronti per questo cammino? Sì, che noi sì, siamo tutti insieme. Prima volta sono stati ampiamente preparati a scuola. Sì da Lanciano, ci sono tre classi del liceo scientifico, poi c'è una classe del DTIT, alcuni non sono al primo anno, sono alla seconda partecipazione. Questa è la quinta partecipazione, però ogni anno sempre più carichi, non manca mai la voglia di partecipare a questo grande evento che si svolge qui nella nostra valle. È un'esperienza che rifarei anche dopo l'uscita da scuola, penso che è una cosa che mi ha formato e non l'abbandono. Il sentiero proseguirà verso Campodigiove e si chiuderà domenica sera. Lungo il cammino, gli studenti ricorderanno anche Donato Ricchiuti, Di Casoli e Ettore De Corti, tenente Friulano ucciso dai tedeschi sulla maiella. Intanto entra nel vivo anche la festa di San Panfilo, il patrono della città di Sulmona, ma dell'intera diocesi di Sulmona Valva. Il vescovo Michele Fusco e i canonici della cattedrale hanno esposto questa sera il busto di San Panfilo, patrono della città e della diocesi di Sulmona Valva. La tradizione vuole che nella sera della vigilia della festa dedicata al patrono il busto venga salito dalla cripta fino all'altare maggiore, proprio dai canonici. Prima però della breve traslazione dalla cripta, il vescovo pronuncia una preghiera davanti al busto di San Panfilo. Poi, una volta che l'immagine di San Panfilo viene collocata in chiesa, l'assemblea canta i primi vespri. Ad eseguire i canti liturgici è stato, come sempre, il coro della Cappella Panfiliana, diretto da Alessandro Sabatini e Mirko Caruso. Domani alle 17 il vescovo presiderà in cattedrale la celebrazione solenne con tutti i sacerdoti della città e della diocesi. Subirò dopo il busto di San Panfilo, verrà portato in processione lungo le principali vie del centro storico. La giornata della festa patronale, secondo la leggenda che sempre l'accompagna, è giornata del meteo variabile. In proposito, è assai efficace il proverbio popolare sulmonese che recita San Panfilo Ortolano, se non piove oggi, piove domani. Ora invece parliamo delle eccellenze agroalimentari che saranno a Sulmona, domenica 29 aprile, al ristorante Meeting, con oltre 100 produttori. Ce ne parlano in servizio. Gaetano Trigiglio. Domenica 29 aprile, dalle ore 11 in poi, a Sulmona, presso l'Hotel Meeting Santa Croce, si terrà la giornata delle eccellenze alimentari d'Abruzzo e Molise. L'avvento è stato organizzato e promosso dall'Associazione I Buoni d'Abruzzo e Molise, dalla Fiesa regionale d'Abruzzo, dal gruppo Gastronomi Assaggiatori e dall'Accademia delle 5T. Cento agli espositori, tra produttori e trasformatori, esperti ed appassionati del settore alimentare, espressioni di un territorio caratterizzato da storie e qualità dei prodotti tipici, uniti dal desiderio di promuovere i prodotti locali, partecipano a questo evento con l'obiettivo di promuovere, innovare le loro imprese, con workshop degustazioni di prodotti che rappresentano la tipicità, la tradizione e la qualità del territorio. Ogni imprenditore metterà a disposizione i propri prodotti che saranno esposti nella sala ristorante dell'Hotel Santa Croce Meeting, con la degustazione a bordo della piscina, con l'idea progetto di un vero e proprio brand territoriale, centrato sulla filosofia di una ricerca di prodotti più naturali e meno elaborati e che offra prodotti abruzzesi e molisani, tutto all'insegna di un'attenta selezione e di un controllo qualitativo e costante. L'obiettivo è conoscersi per far conoscere un atto d'amore per le eccellenze alimentari tipiche e tradizionali. Sarà presentato il progetto di brand territoriali I Buoni, Abruzzo e Molise. Questi sono gli obiettivi dell'associazione che intende unire le aziende che producono eccellenza agroalimentare, autentica e nostrane, con l'obiettivo anche di diffondere le potenzialità dei suoi prodotti e di conseguenza i territori di Abruzzo e Molise. Il brand territoriale dovrà essere abbinato ad un piano di espansione del tipico regionale, in Europa e negli altri paesi del mondo. Ed ora è arrivato l'atteso momento della buona notizia del giorno. Centineia di iscritti ogni anno che rischiavano di non avere più una serie dove riunirsi, ma sul mona è scoppiata la febbre del burraco e per il crepe arriva la nuova serie dell'Europa Parcotelli, inaugurata lo scorso 25 aprile. Tutti, bambini e ultraotto a genari, possono giocare e trascorrere interi pomeriggio e serate in buona compagnia. Finora il club, che conta ogni anno più di cento ore serati, a goduro dell'ospitalità le diverse strutture ricettive. Nel mese di marzo però ha rischiato seriamente di chiudere i battenti a causa della mancanza di una serie adeguata. A quel punto la presidente Francesca De Luca, da più di sette anni alla guida del club, con il supporto di validissimi amici e collaboratori, ha preso contatti con i signori Rubeo di Avezzano, famiglia di imprenditori marsicani, proprietari tra l'altro dell'Europa Parcotelli. L'imprenditore Antonio Rubeo e sua moglie hanno immediatamente raccolto l'istanza dell'associazione senza indugi, con grande generosità, hanno concesso, in comodaro d'uso gratuito, i locali che un tempo ospitavano la pizzeria all'interno dell'Europa Parcotelli, racconta la presidente De Luca. È stata una corsa contro il tempo, un banco di prova per testare il clima di coesione e collaborazione che regna all'interno del Burraco Club. Tutti hanno dato una mano per ripulire il locale e organizzare una giornata che rimarrà nel cuore di molti. Il Burraco non solo è un banalissimo gioco di carte, ma anche molto di più. È un esercizio di memoria, considerato di validissimo aiuto contro il progredire di malattie neurodegenerative ed è sicuramente un'occasione di incontro, socializzazione, specialmente per le persone sole e anziane. E ora lo sport con l'atletica leggera, saranno oltre 250 gli atleti provenienti da tutto Abruzzo per domani e dopo domani la prova dei campionati di società regionali delle categorie ragazzi e ragazze che si terranno nella pista di Sulmona. L'organizzazione delle due giornate è affidata alla società Amatori Atletica Serafini. Il programma per sabato, per domenica, quindi domani e dopodomani, prevede l'inizio di ambo i giorni alle ore 16 e poi il termine delle gare alle ore 19. E intanto questa sera su Onda TV, canale 18, del Digitale Terrestre alle ore 22, sarà trasmesso uno speciale sulla partecipazione dell'Olimpia Cedas di Sulmona l'evento svoltosi il 25 aprile a San Giorgio a Cremano. Vedremo i ragazzi divertirsi giocando a calcio, si campi in erba sintetica dello Sporting Village di San Giorgio a Cremano. È stata una giornata di sport e aggregazione per nati dal 2007 al 2009 con la soddisfazione di tecnici e genitori che ascolteremo nello speciale realizzato da Onda TV che ha partecipato con l'Olimpia Cedas alla trasferta nella località che ha dato in Natalia Massimo Troisi appuntamento questa sera alle 22 sulla nostra emittente. Ed ora lo dico al TG. Come al solito chiudiamo con domande, segnalazioni, curiosità sulle notizie del giorno e non solo. Vediamo quali sono arrivati in questa elezione dell'Onda TG. Come al solito speschiamo tutto sulla nostra pagina Facebook. L'Abruzzo in cucina non si batte ma penso che si dovrebbe sponsorizzare molto, sempre di più, ci scrive un telespettatore in vista del grande raduno di domenica 29 aprile. Prato la Sima, l'Aquila, l'Aquila del centro-destra, Targalega, sta deludendo gli stessi votanti. E qui vedete i commenti anche sulla situazione politica, non solo a livello locale. Le state provinciali sono l'emblema del fallimento delle province, ci scrive un altro telespettatore, ma al referendum si è scelto di tenerle. Ricordate, ricordare, aiuta, ci dice. Poi ancora l'Abruzzo è un'eccellenza della cucina. Commenti anche per Gilberto Malvestuto, il patriota, e questa manifestazione all'inizio della Marcia della Libertà. Quindi continuate a scriverci sui social. Vi ricordo, alle 21, la replica di Onda Strike. Ebbene, è davvero tutto per questa edizione. Onda Regi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti voi lascio la buona serata. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.